Sono 959 casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.160 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.059. Il tasso di positività è al 9,3% in diminuzione rispetto al 10% di ieri. La Sicilia è l'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 21.610 con un aumento di 234 casi. I nuovi guariti sono 712 con 4 decessi con il numero totale delle vittime che sale a 12.186. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 216, 14 in meno di ieri, in terapia intensiva sono 13, 3 in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 219 casi, a Catania 229, Messina 198, Siracusa 109, Trapani 81, Ragusa 47, Catanissetta 30, Agrigento 38, Enna 31. Il calo dei dati odierni è in linea con il bilancio fornito dal DASO e il Dipartimento per l'attività sanitaria e osservatorio epidemiologico della regione siciliana.